host 2019 siamo nell'area dedicata alla pasticceria e alla gelateria ci troviamo allo stand di misu il prodotto che ormai io chiamerei addirittura sistema più che prodotto irrompe in tutti i ristoranti bistro le gelaterie di italia con una preponderanza davvero straordinaria un grande successo per voi iuri merlini bentornato grazie fabio grazie ben trovato sì devo dire siamo molto soddisfatti perché il prodotto sta avendo un buon riscontro di mercato e stiamo crescendo in modo importante come azienda e questa è una soddisfazione un po visto la nostra storia di azienda giovane noi sappiamo che il tiramisù ha la sua ricetta poi sulla ricetta del tiramisù c'è un protocollo che soprattutto in veneto fa a botte con altri protocolli perché ognuno dice ma no quello originale quello che faccio io no è quello che faceva la mia nonna e così via voi avete trovato una formula che non solo accontenta tutti soddisfa i palati dei consumatori e con i retailers coloro che sono diventati man mano vostri clienti riesce a unire soddisfazione per il servizio dato il prodotto somministrato al tavolo e anche in termini economici perché ha un buon equilibrio qualità prezzo sì noi veniamo come territorio dal nord est d'italia e abbiamo quindi attinto da quella che è la ricetta tradizionale come giustamente dicevi tu parlare di ricetta tradizionale è un po un terreno minato però comunque abbiamo messo a punto una ricetta che va incontro ai gusti diciamo al gusto più diffuso nel nostro territorio facciamo questo come ricorderai attraverso l'aiuto di una macchina quindi la preparazione del tiramisù avviene attraverso l'impiego di una macchina che aiuta gli operatori della ristorazione a preparare in tempo reale il tiramisù infatti il nostro claim è tiramisù pronto in 30 secondi in realtà io lo chiamavo sistema oramai proprio perché non è più solo prodotto ma anche e soprattutto il macchinario che aiuta il preparatore del tiramisù a fare una buona monoporzione quali le novità presentate qui a ost 2019 le novità principali sono l'introduzione della cosiddetta linea pasticceria quindi sono creme a base di mascarpone perché il nostro core business la crema a base di mascarpone con l'aggiunta di variegature quali ad esempio la nocciola lo zabaione il pistacchio per poter in qualche modo ampliare quella che è l'offerta commerciale questo unito sia all'utilizzo della macchina ma anche all'utilizzo manuale da parte diciamo di operatori che non necessariamente hanno bisogno della macchina a questo punto direi che è d'obbligo un assaggio voglio assaggiare il pistacchio bene andiamo ed eccoci giunti nella postazione pistacchio posso chiamarla così assolutamente la postazione dedicata al pistacchio che è erogata dalla macchina che è qui dietro a meno 3,5 gradi e allora mostriamo questo pistacchio eccoci molto semplice si posiziona la coppetta all'interno eccolo lì si eroga la crema questo è il misu pistacchio che davvero una grandissima innovazione come è possibile entrare in contatto con voi per aderire alla vostra formula commerciale abbiamo diversi canali tra cui numero telefonico 370 308 79 82 dove il nostro back office commerciale italia gli darà tutte le informazioni necessarie oppure via email a info chiocciola misu.it semplicissimo e ora col tuo e con il loro consenso rubo la tua baschetta con il pistacchio e ti auguro buon compleanno perché oggi compi gli anni esatto grazie grazie mille grazie a te per la collaborazione al prossimo appuntamento che sarà naturalmente il sigge 2020 grazie buona serata grazie a te